In questa puntata GKN, il consiglio si attiva per la legge sulla delocalizzazione Vertenza Sittel, strategico e ruolo della Regione Urbanistica, semplificare la normativa e meno burocrazia Torna la Fiera della Pieve a Sinalunga La giunta regionale della Toscana dovrà attivarsi nei confronti del governo Affinché venga approvata quanto prima una proposta di legge Che contrasti in modo efficace le delocalizzazioni di aziende Che non presentano segnale di crisi È il principale impegno contenuto nella proposta di dissoluzione Sottoscritta dai consiglieri di tutti i partiti in consiglio regionale Alla luce della situazione dello stabilimento di GKN di Campi Bisenzio È un impegno che abbiamo preso Il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti i protagonisti Fin dalla prima parte come ufficio di presidenza, come capogruppi Abbiamo lavorato insieme, abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti Abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori Doveva essere la Toscana, difendere i lavoratori della Toscana In questo caso di Campi Ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana Quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria Che accompagna quella che è una sentenza del giudice Ma non è sufficiente Noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo Ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere E unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione E questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo Nella soluzione insomma di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN Noi sottolineiamo due aspetti fondamentali Il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato Né in quest'Aula né fuori da quest'Aula Su ciò che è successo sulla GKN Per domandarsi come in una città di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale La produzione nazionale e il luogo dei lavoratori In questo momento importantissimo che è tutta la narrazione dell'Italia post pandemia Dall'altro chiaramente e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte Di mitigare cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca Perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto E questo è veramente chiaro ed è oggettivo Non si vada invece a fare il gioco contrario Cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento Che consentono appunto di facilitare gli investimenti in regione toscana Confindustria Toscana in questo senso è stato abbastanza chiaro Siamo contenti che sia stato mitigato questo passaggio nel testo Ed è quello su cui Fratelli d'Italia è disposto a giocare la partita insieme alle altre forze politiche Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori Perché hanno le idee molto chiare Spesso anche più chiare della stessa politica Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi Lo hanno vissuto sulla loro pelle E devo dire che i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione A noi politici e anche alle istituzioni Perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese Ma veramente del tessuto produttivo del territorio Che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali Vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio I lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione Hanno fatto delle richieste precise Sono molto organizzati, determinati Li abbiamo visti anche durante la manifestazione poderosa Che hanno organizzato a Firenze Finalmente veramente ha fatto piacere anche vedere Che c'è un risveglio della coscienza dei lavoratori Che si sentono uniti, che sono uniti nelle battaglie comuni E quindi niente La proposta di risoluzione che parte oggi dalla regione toscana È la voce dei lavoratori verso il governo Cioè di che cosa deve contenere quel decreto anti-delocalizzazione Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche Mandando un messaggio molto chiaro E ho sempre detto che quando si parla di lavoro Di tutela del lavoro, di dignità delle persone Non ci sono colori e non ci sono distinzioni Questa è una vicenda che ormai ha assunto il respiro nazionale E sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta A quel fenomeno che è non solo quello delle delocalizzazioni Ma soprattutto queste situazioni patologiche Di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera E che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere E quindi creano anche un'emergenza sociale Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte e di vicinanza Adesso vedremo se a livello di governo Ci sarà una risposta altrettanto chiara Che naturalmente però deve partire da due logiche Da un lato la tutela del lavoro Sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni Però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana Anche le multinazionali Oltre alle tante imprese, alle tante attività artigianali Alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico Ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso Che dà posti di lavoro Quindi noi sosteniamo questa battaglia Però diciamo anche no a quelle logiche punitive Che vedono talvolta Diciamo le imprese sul banco degli imputati Quando invece ci sono tante Ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione E che meritano altrettanto di essere sostenute Una proposta di risoluzione che ha trovato l'unanimità Che era una voce forte Che ci veniva chiesta prima di tutto Dai lavoratori e dalle lavoratrici Che abbiamo incontrato Con il Presidente del Consiglio e la Commissione Qualche giorno fa Ed abbiamo, come dire Sentito forte la responsabilità Di questo atto Che ci vedesse tutti insieme Combattere dalla stessa parte Il mio è un ringraziamento a tutte le forze politiche Tutte quante Ovviamente al Presidente del Consiglio A tutti coloro che hanno condiviso questo documento Oltre agli uffici L'abbiamo fatto in tempi rapidi Ed è parte di un percorso e di un impegno Che ci siamo presi in quel momento Con i lavoratori e con le lavoratrici Quello che è accaduto lì a 500 lavoratori Perché con l'indotto si arriva fino a 500 Con tutte le famiglie È una cosa che dobbiamo scongiurare Io l'ho chiamata scempio L'ho chiamata una vergogna L'abbiamo definita in una maniera inconcepibile Ecco che la Regione Toscana Per quel che può Deve alzare la voce Presso gli enti che possano fare qualcosa Ovviamente la decisione del Tribunale di Firenze Ci ha aiutati a prendere tempo E di cui ringrazio la FIOM Per il loro lavoro e per il loro impegno Noi oggi abbiamo chiesto L'auspicio che vengono revocati immediatamente I licenziamenti Abbiamo chiesto che La proposta di legge Che è già stata depositata in Parlamento Avvire il suo iter velocemente E anche in maniera efficace Quindi con delle proposte serie Per quanto riguarda le delocalizzazioni E qualora non ci fosse una spinta veloce Da parte di questo iter di questa legge Presentata dal Ministro Orlando Abbiamo addirittura impegnato la Giunta Affinché sia lo stesso Consiglio regionale A fare una proposta di legge al Parlamento Nel documento abbiamo ripreso I punti che ci vennero consegnati Dagli stessi lavoratori in quella mattina Ecco che diventa un atto Che vuol condannare un sistema selvaggio Che vede la speculazione finanziaria E non rispetta un modello di lavoro dignitoso Noi dobbiamo sicuramente interrogarci Sul modello di sviluppo che vogliamo E vogliamo farlo Mettendo al centro la dignità dei lavoratori Ma lo facciamo anche nel rispetto Di quelle imprese Di quegli imprenditori E anche di quelle multinazionali Che invece si sono sempre comportate correttamente Il nostro obiettivo È la correttezza La legalità E l'etica del lavoro La Regione deve dare un segnale forte In questa direzione Strategico il ruolo della Regione Toscana Nella vertenza Sittel Che ha permesso di salvaguardare Circa 180 posti di lavoro in Toscana In altre sedi in Italia E anche il pagamento degli stipendi arretrati È sempre una bella giornata Quando c'è una notizia positiva Io penso che la politica Le istituzioni tutte Debbano essere a fianco dei lavoratori sempre Questa è stata una vertenza difficilissima Difficilissima perché non era scontato il risultato Ma noi ce l'abbiamo messa tutti E ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme I lavoratori, le lavoratrici, i sindacati Le istituzioni regionali, le istituzioni locali Io sono contento oggi di suggellare questo momento Perché è il segno che una comunità L'intera comunità toscana Può combattere altre battaglie difficili Penso a quella della GKN Solo se si tiene tutta per mano Io ho un'ossessione L'ossessione per il lavoro L'ossessione per quelle donne e quegli uomini Che la sera tornano a casa E a volte si ritrovano nella condizione Di non sapere come pagare una bolletta O poter andare ad acquistare del cibo E deve essere forte La dobbiamo sentire noi E sono orgoglioso Che in tutte queste vertenze A partire da quella di Sitte E da quella di GKN Tutto il Consiglio regionale sia insieme E questa è la nostra forza Non dividiamoci mai Secondo logiche politiche nazionali Ma poniamo al centro Sempre i cittadini Le persone Il lavoro Questa è la sfida che ci attende La vertenza Sitte È un risultato positivo Ma non abbassiamo la guardia Perché ce ne sono tantissime altre vertenze Che richiedono la nostra vicinanza Il nostro sostegno E come dire Un lavoro di comunità tutti insieme Semplificare la normativa urbanistica in Toscana Riducendo la burocrazia E introdurre il piano urbanistico comunale unico Per i comuni sotto i 10.000 abitanti È quanto prevede una legge illustrata Dal capogruppo di Italia Viva In Consiglio regionale Stefano Scaramelli Che punta a rottamare La legge Marson In materia di difesa del territorio E del paesaggio Una proposta di legge Che oggi abbiamo presentato Innovativa per la Toscana Abbandonare l'impostazione della Marson Che prevedeva una decrescita infelice A nostro avviso Per andare verso una crescita sostenibile La possibilità per tutti quei comuni Con meno di 10.000 abitanti Di non dover realizzare Piano strutturale Piano operativo Ma esclusivamente un unico piano Comunale urbanistico unico Uno strumento da fare in 15 mesi E pensiamo a un sindaco Che viene eletto 6 mesi per ragionare Per pensare Per insediarsi 15 mesi per fare Programmazione urbanistica E 3 anni per realizzare gli interventi Solo così Un'amministrazione comunale Può trovare E dare sviluppo Semplificazione Per realizzare Opere pubbliche E nello stesso tempo Cartografia regionale Per la sicurezza idraulica E sismica A disposizione dei comuni Perché se prendiamo un'azienda Che deve fare 10 insediamenti produttivi In Toscana È costretta ad avere 10 normative diverse 10 condizioni diverse Noi dobbiamo uniformare una regione Anche sotto questo punto di vista E credo che sia una norma Che va sulla semplificazione Riduce costi Che crea sviluppo Dopo un anno di stop Dovuto alla pandemia Torna la centenaria Fiera alla Pieve A Sinalunga Dal 2 al 10 ottobre 2021 Molto importante Presentare qui Nel cuore Della regione toscana Una fiera centenaria Come la fiera di Sinalunga Perché noi Crediamo E siamo fortemente Convinti Che nelle tradizioni materiali Nella cultura materiale Dei nostri territori Si esprima Gran parte Della nostra identità culturale E È sempre importante Ricordarsi Chi siamo Da dove veniamo Quali sono Le nostre qualità I talenti Del nostro territorio Le specificità Ma lo è ancora di più In un tempo come questo Che ha sofferto Che ha dovuto rinunciare A tante belle tradizioni Anche questa Della fiera di Sinalunga Che è stata sospesa Per il covid Nel 2020 Ma quest'anno Ritroverà tutto il suo splendore E anche la gioia Di vedersi in presenza E di poter insieme Custodire questo patrimonio Di tradizioni E di cultura materiale Costano molto impegno Alle amministrazioni comunali Per questo la regione È vicina A tutta la tradizione Delle rievocazioni storiche Delle fiere storiche E appunto Di questi luoghi Di conservazione Di cura Ma anche di pratica Del futuro Della cultura materiale Dei territori Perché l'agricoltura La produzione Agricola in generale E l'allevamento Insieme a tutta la cultura Che ci ruota intorno Non rappresentano Soltanto il passato Per la Toscana Ma sono un punto Di riferimento Anche per lo sviluppo futuro È una fiera Cosiddetta Chiamata La fiera La pieve Perché proprio Viene situata Nella frazione bassa Insomma Di Sinalunga Insomma È legata E a radici Religiose Perché è dedicata Alla Madonna del Rosario Ma negli anni È sempre stata E ripeto È una fiera centenaria Il momento Dove Le economie Locali E in particolar modo Quelle Più rurali Contadine Della mezzatria Andavano in piazza A presentare E vendere E scambiare I propri prodotti mitochondria Arte Mann rear Alla Alla Mezzatria